Il mio compito è di dire due parole di introduzione senza rubare troppo tempo, uno per presentare il relatore di questa conversazione, due per dire che punto siamo di questo ciclo di lezioni. Dico subito questo, questo è il terzo ciclo, la terza lezione di un ciclo pensato l'anno scorso. L'anno scorso si sono fatti gli intellettuali e la prima guerra mondiale, era il 15, insomma il centenario facilitava in sostanza questa riflessione. La riflessione di quest'anno era dettata intanto dalla necessità di dare spazio a quella che è la seconda classe dell'Accademia, che è la prima classe dell'Accademia, che è la classe delle scienze naturali. Ma soprattutto perché a differenza degli intellettuali che erano per il sì o per il no interventisti e non interventisti, questa volta si tratta di vedere come gli scienziati a vario titolo sono stati coinvolti dalla prima grande guerra mondiale con delle conseguenze che in prospettiva poi hanno avuto, diciamo così, peso nella storia del secolo breve del novecento. Allora intanto è il mio compito e lo svolgo con piacere e con senso di onore nel presentare il nostro relatore di questa sera, cioè il professor Marco Rodolfo Galloni che è dell'Università di Torino e dell'Accademia di Medicina di Torino. Le sue competenze vanno dalla storia militare della sanità, diciamo così, nel tempo e poi vi permetterò di citare un suo intervento su questo tema, fino allo studio comparativo tra uomini e animali. in realtà lui fa parte della facoltà di veterinaria e soprattutto studia la compatibilità tra gli aspetti, io lo dico da rozzo incompetente, tra le presenze nel mondo animale di parti fisiologiche che possono interessare la storia della salute dell'uomo. Io sono, da questo punto di vista qui, più che un esperto di medicina, una cavia dei medici, credo di aver avuto tutte le malattie classificate, più due ancora in attesa di denominazione. In realtà studiando il mio apparato del cuore circolatorio, ho dovuto prendere atto di una cosa, che l'animale più simile all'uomo è il maiale. Ne avevo come una percezione da giovane, ma per altre ragioni, diciamo così, che riguardavano piuttosto atteggiamenti verso, per esempio, l'igiene e magari anche il sesso alternativo. Ma adesso invece è vero, il maiale tecnologico è un maiale sfruttato dal punto di vista anche dell'inventiva, diciamo così, per ottenere pezzi di ricambio. Devo dire che questo ci rassicura, perché piuttosto che aspettare pezzi di ricambio umano, non devo dire, ma il maiale lo vogliamo tutti bene per via degli insaccati che ci hanno regalato del tempo. Mi sto perdendo dietro le mie simpatie, abbiate pazienza e quindi perdonate queste, e chiedo soprattutto al relatore di perdonare. Devo però ricordare almeno i pregi della sua carriera, oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni con istituti prestigiosi, italiani e soprattutto stranieri, da Parigi fino al di là dell'oceano, fino a Washington, all'Università di Ginevra e, più vicino a noi, collaborazioni con l'Università di Bologna e l'Università di Moab. Le bioprotesi cardiovascolari sono in realtà il cuore, diciamo così, è il momento così più intenso della sua ricerca. Ma le sue ricerche vanno anche in altra direzione e, devo dire, dal punto di vista di quello che io riesco a capire nella lettura dei libri, mi piace proprio segnalare questo libro che nasce dalla sanità militare nella storia d'Italia. Il professor Galloni ha lavorato su questo tema e, tra l'altro, è un tema interessante di storia della medicina. Giovanni Battista Inaudi, chirurgo militare. Sto per chiudere questa breve presentazione, ma questo studio del professor Galloni mi permette di ricordare questo fatto, che, ahimè, la guerra, soprattutto se è una grande guerra, offre un materiale praticamente infinito per quanto riguarda l'attività di medici e infermieri e soprattutto per quanto riguarda la ricerca. La ricerca, ahimè, sul campo e sul campo umano che viene messa a disposizione, talvolta intero, talvolta leggermente menomato, è vero, di chi, per giuramento di ipocrate, è votato a salvare le vite umane. La guerra, e la grande guerra in particolare, procede esattamente nell'altra direzione. I medici sono stati, e continuano a essere, ce lo dimostrano anche i fatti di questi giorni, gli ospedali militari a rischio nelle zone calde, eccetera, eccetera, continuano a inseguire quella che mi piacerebbe definire non un'utopia, ma una realtà, vale dire, la possibilità di avere la salute a disposizione di tutti. Ma finisco qui, ringrazio voi i presenti e ringrazio il professor Gallone e a cui do la parola. Grazie mille, grazie a voi di essere venuti questa sera. Il tema che mi è stato affidato appunto è quello di parlarvi di quello che fondamentalmente i medici, i chirurghi e quel gruppo di medici che si occuparono di fisiologia fecero durante la guerra. I fisiologi sono stati, benché fossero medici, come gli altri praticamente tutti, però effettivamente ebbero un ruolo particolare, in particolare anche, possiamo dire, qui a Torino e perciò è giusto ricordarli con un loro spazio a parte. Chi di voi ha sentito le prime due conferenze avrà sentito appunto, dato che però hanno riguardato altre scienze, la fisica, la matematica soprattutto, la chimica anche, avrà sentito discutere molto sull'atteggiamento politico appunto di questi scienziati. Erano piccoli numeri, naturalmente, i fisici, i chimici, nonostante tutto, i matematici anche, se comparati alla classe medica, che ovviamente ha tutto un suo lato scientifico assolutamente, ma è fatta di professionisti che lavorano e in effetti questi sono stati i protagonisti fondamentali di questa guerra e l'immagine della cartolina che ho scelto come prima immagine per questa presentazione appunto mostra in modo appunto abbastanza edulcorato comunque che le ferite erano, per non parlare ovviamente dei morti, ma comunque erano frequenti nella guerra, bisognava aspettarselo. Qui vediamo la figura tipica della croce rossina che soccorre il ferito e ovviamente insieme alla croce rossina i porta feriti sul campo, i medici nei posti più vicini al fronte oppure negli ospedali da campo o sempre più lontani man mano che eventualmente i pazienti venivano evacuati dal fronte. Però dicevo che l'aspetto medico nella guerra è un aspetto legato alla professione medica, dopodiché naturalmente appunto i fisiologi di cui vi parlerò abbastanza, gli anatomici e gli altri studiosi universitari fondamentalmente della medicina ebbero un loro ruolo e fra questi si possono anche individuare delle prese di posizione sulla guerra, sull'interdentismo e altre cose. Vi dico subito che tutta l'Italia e però con buon diritto possiamo in un certo modo ristringere il campo a Torino perché è stata nettamente indicativa anche un po' della situazione nazionale veniva da un lungo periodo di pace come sappiamo prima della grande guerra periodo in cui intanto a livello scientifico ma anche a livello filosofico aveva prevalso il positivismo e il positivismo da Comte in poi era una parte della filosofia che appunto basava su dati positivi il che vuol dire scientifici perciò in quel periodo in effetti gli scienziati alcuni dei quali per esempio Molescott che era di origini olandesi passato attraverso la Germania è venuto a Torino ad insegnare la fisiologia nel 1861 all'immediato dopo immediatamente dopo l'Unione e l'Unità d'Italia Molescott se andate a vedere nelle sue biografie viene citato come fisiologo, medico, fisiologo e filosofo e questo intreccio di teoria e di pratica era favorito proprio dallo spirito positivista che traeva ispirazione anche dalle conquiste dall'accumulo che si stava facendo in quegli anni di dati scientifici quantitativi per esempio che sono tipicamente appunto importanti dal punto di vista anche filosofico e perciò c'era questo atteggiamento questa importanza attribuita alla scienza chiunque la praticava era in quel periodo aveva un ruolo molto maggiore di quello che era stato in decenni precedenti l'altro aspetto appunto legato strettamente alla guerra è che alcuni personaggi piuttosto importanti erano qui erano degli irredentisti perché erano nati per esempio a Trieste noi abbiamo l'esempio di Giuseppe Levi anatomico importantissimo ma anche di Arlitzka altro nome che tornerà più volte quest'oggi questa sera erano originali di Trieste e perciò essendo venuti avendo fatto questa scelta di passare di abbandonare l'impero austro-ungarico e di venire qui nell'Italia di allora era evidente che nel momento in cui poi scoppiò la guerra avessero alcuni anche prima avessero un atteggiamento ovviamente favorevole alla guerra che auspicabilmente avrebbe portato alla redenzione tra virgolette appunto delle zone irredente dell'Italia per cui in effetti anche delle posizioni favorevoli alla guerra c'erano però bisogna dire che erano fortemente controbilanciate dal fatto che proprio in questo lungo periodo di pace che precedette la guerra i rapporti fra l'Italia e la Germania erano molto stretti alcune scuole di medicina soprattutto nel campo della fisiologia nel campo poi vedremo anche della psicologia che è un ramo che nasce proprio in quel periodo praticamente dalla fisiologia stessa le scuole più importanti erano fondamentalmente in Germania e anche un pochino a Parigi ma moltissimo in Germania il che vuol dire che in quegli anni molti italiani passarono dei lunghi periodi all'estero studiarono alcuni presero addirittura due lauree anche una in Germania o ebbero delle libere docenze o diciamo delle cose analoghe in Germania e questo rinsaldò delle forti amicizie delle colleganze anche per esempio e non va trascurato nello spirito di quel tempo la goliardia che non solo interessava direttamente gli studenti ma poi proseguiva coinvolgendo anche i docenti coinvolgendo alcune persone per un lungo periodo della loro vita anche la goliardia aveva un aspetto fortemente internazionalista e perciò in effetti al momento dello scoppio della guerra quando poi ci fu soprattutto l'anno di attesa tra il primo scoppio della guerra tra Francia e Germania nel 14 e poi il coinvolgimento italiano solo nel 15 in quel periodo effettivamente ci furono anche molte persone assolutamente restie contrari alla guerra perché si sarebbero trovate a combattere contro dei cari amici dei colleghi delle persone con le quali avevano dei legami e vedremo addirittura un caso particolare in questa direzione comunque detto questo e tenendo conto che nel 15 l'Italia decide di rompere la triplice alleanza e di allegarsi con le altre nazioni contro Austria e poi successivamente nell'anno successivo contro la Germania comunque scoppia la guerra e i medici vengono coinvolti immediatamente naturalmente l'esercito la marina avevano il loro corpo dei medici erano alcune migliaia non molti di più ma nel periodo della guerra alla fine della guerra si superò il numero di 14.000 medici e chirurghi coinvolti nella guerra non tutti al fronte naturalmente anche nelle retrovie ma tutti comunque impegnati richiamati alle armi e diciamo messi di fronte alle sfide che la guerra questa guerra moderna con i nuovi mezzi di aggressione e con la situazione anche umana che creò la guerra di Trincea non era mai esistita le guerre precedenti quasi tutte diciamo ancora quelle ancora le guerre di indipendenza si erano combattute con eserciti policromi multicolori anche perché serviva perché i generali da lontano vedevano il colore delle giubbe e dei pantaloni e riconoscevano gli amici e i nemici questo era uno dei motivi per cui i soldati avevano questi colori tra l'altro vi ricordo che i francesi andarono alla guerra ancora nel 14 con degli splendenti pantaloni rossi che erano un bersaglio che facilitavano molto il tiro al nemico ecco la guerra divenne rapidamente una guerra statica di Trincea lo sappiamo con mille problemi anche psicologici non solo fisici e tutto cambiò perciò i medici si trovarono di fronte a dei problemi che non erano preparati in realtà ad affrontare un esempio di questa situazione è il fatto che un professore di medicina dell'Università di Torino Pietro Sisto nel 1915 pubblica una guida per il medico in guerra evidentemente aveva ovviamente subodorato sentito il clima che si era creato e scrive questo libro da cui si evince che i medici dovevano essere preparati ad affrontare soprattutto le malattie infettive perché le malattie infettive con questi ammassamenti di persone di soldati con le trince avrebbero potuto facilmente distribuirsi e tenete conto che alla fine questo non era sbagliato perché dei famosi 600 tragicamente famosi 600.000 morti che la prima guerra mondiale fece il 49% si calcolò erano stati feriti da armi comunque da offese appunto belliche ma il 33% erano morti per malattie contratte in guerra ed è un numero piuttosto elevato se ci pensate e che ci fa veramente capire come le malattie infettive fossero un nemico che oltretutto contro il quale non c'erano armi il problema si affrontavano le malattie infettive cercando di cogliere i primissimi segni indicativi della malattia che stava arrivando e isolando i malati creando dei lazzaretti veri e propri lazzaretti militari in cui isolare e le malattie che appunto Sisto segnala e di cui parla nel suo libro del 15 sono il colera la peste il vaiolo il tifo la lebra la meningite la malaria la rabbia e il carbonchio quasi tutte patologie che in realtà si verificarono alcune di più alcune di meno ma vi ricordo che per esempio ci furono 20.000 colpiti dal colera durante la prima guerra mondiale dei quali 5.000 morirono perciò in effetti questo non era affatto affatto uno scherzo la cosa interessante è che lo stesso Sisto nel 1916 pubblica un nuovo lavoro dopo questo libro e dice e fa autocritica dice noi pensavamo che la guerra avrebbe portato problemi soprattutto con le malattie infettive ovviamente a parte le ferite questo era intuitivo ma i problemi grossi sarebbero i medici sarebbero state le malattie infettive e invece ci troviamo di fronte ai gas ai gas velenosi e tra l'altro le immagini che state vedendo e che adesso farò scorrere riguardano anche molti oggetti non è stato ricordato ma molti di voi sanno che io dirigo un archivio che in realtà è un museo dell'Università di Torino con ampie parti dedicato alla medicina e sono molto legato a una storia che parte non solo dai libri ma dagli oggetti che raccontano molte cose questo per esempio è una piccola farmacia portatile che noi abbiamo di cui abbiamo un esemplare lo vedete qui e poi a parte le medicine che si potevano avere quelle che c'erano non c'erano antibiotici ma per esempio questa fiaschetta che faceva parte della dotazione di tutti gli ufficiali medici ci spiega anche appunto come il conforto dovesse essere una parte importante dell'azione del medico ecco vi parlavo dei gas questa cartolina del tutto simbolica che raffigura il tedesco notate il chiodo sulla testa come era dell'elmo tedesco tipicamente vedete i gas con questa con questa raffigurazione macabra ma in effetti proprio appunto Sisto nel 16 ci dice noi pensavamo di dover affrontare malattie ci troviamo di fronte ai gas erano inaspettati di questa scelta viene l'uso del gas come si vede anche in questa caricatura diciamo di questo si fa una colpa ai tedeschi che usano qualunque mezzo che sono disumani anche se poi naturalmente rapidamente anche tutte le altre nazioni dovrebbero correre ripari e diciamo e produrre loro gas anche usarli effettivamente la patologia da questi gas era grave e sia perché in molti casi non c'erano assolutamente rimedi sia perché raccontano i medici che le persone colpite rimanevano lucide e avevano a volte delle lunghe tragiche agonie e perciò questo era veramente molto spiacevole diciamo tragico e questo aveva appunto creato un grande vedete la figura del medico a lato in fondo vedete con le braccia conserte impotente di fronte all'agonia di questi poveretti colpiti dobbiamo però ricordare che nel 15 il professor Icilio Guareschi aveva pubblicato e perciò scritto precedente prima dello scoppio della guerra ha scritto questo fascicoletto la chimica dei gas velenosi e la guerra il che voleva dire che comunque l'idea del possibile uso di gas velenosi comunque era già nell'aria in un certo senso ma Icilio Guareschi che appunto come chimico fa questa oggettiva analisi di questi potenziali allora mezzi di aggressione però immediatamente anche sviluppa una sua maschera antigas questa è la maschera di Guareschi del 1915 e vi ricordo che il primo assalto con i gas sul fronte italiano è del 16 perciò nel famoso attacco di Monte San Michele del giugno del 16 perciò già nel 15 alcune persone come Guareschi avevano capito studiato il problema e persino trovato dei rimedi l'argomento i gas asfissianti le maschere vedete sono anche su delle riviste molto popolari oppure addirittura sulla copertina della lettura di questo del 17 quando ormai le cose hanno scoppiato ma diciamo che il gas l'uso dei gas venenosi diventa un tema estremamente diffuso anche tra i civili e poi nasce anche quest'altra maschera che vedete che è dovuta a Medeva Erlitska un fisiologo torinese e anche lui nel 15 si affronta l'argomento si occupa dei filtri anti gas che sarebbero stati tenuti in quella vaschetta che vedete sotto il naso attraverso la quale l'aria obbligatoriamente doveva passare prima di essere respirata e qui vedete noi nel nostro archivio conserviamo il prototipo di questa maschera di celluloid si è ingialita col tempo ma è un pezzo veramente importante che per di più appunto noi siamo sicuri perché la pubblicazione da cui è venuta l'immagine precedente è del 15 che appunto nel 15 già si era preparati alla difesa questa è poi la maschera che è stata usata di più e aveva questa scritta chi leva la maschera muore tenetela sempre con voi per dimostrare in effetti in quel momento in cui i frangenti fu una cosa la guerra con i gas fu una cosa estremamente grave ci furono anche pubblicazioni per parlare di come proteggersi eccetera però appunto noi usammo anche noi italiani usiamo e questa bandierina di seta leggerissima che seguiva facilmente il vento e che è marchiata compagnia speciale X con una diciamo era un eufemismo per citare le compagnie italiane che erano adibite all'uso dei gas e la bandierina serviva per evitare di lanciare i gas quando il vento veniva contro intuitivamente e noi appunto nel nostro archivio abbiamo anche questa cassetta il campionario degli aggressivi dei gas aggressivi perciò come dire c'era una evidente istituzionalizzazione per insegnare ai soldati a portare la maschera a muoversi si facevano questi esercizi cioè si entrava in tende sature di fumo con la maschera e nel fumo e con queste difficoltà leggera di respirazione appunto era un test e qui vediamo invece i soldati italiani quando lasciavano uscire i gas dalle bombole naturalmente col favore del vento ho parlato di medici e abbiamo naturalmente anche la controparte chirurgica i chirurghi furono ovviamente coinvolti soprattutto questi per le ferite vere e proprie da guerra e Uffreduzzi l'ordinario di chirurgia del Stato di Torino nel 15 anche lui pubblica una guida per il chirurgo in guerra anche questo evidentemente libro scritto precedentemente al vero scoppio della guerra e per quanto riguarda la diciamo il discorso della chirurgia e perciò le ferite di guerra il dato riassumendo abbreviando il dato più importante alcuni dati sono questi che le ferite furono in gran parte contrariamente a quello che era successo nei secoli precedenti da quando comunque c'erano le armi da fuoco le ferite furono moltissimo alla testa perché la testa era la parte più esposta nelle trincee in proporzione meno ferite alle altre parti del corpo tranne appunto durante gli attacchi gli assalti in cui evidentemente ci si esponeva moltissimo e perciò ci furono molte ferite alla testa anche gravi e tra queste ferite i morti dalle ferite nelle varie parti del colpo ebbero questi valori il 50% dei feriti alla testa morirono il 20% dei feriti al torace e qui se si pensa a tutta una serie di aspetti della fisiologia toracica questo è diciamo confortante ma praticamente ci si avvicinò al 100% di morti per feriti all'addome e questo era dovuto al fatto che una ferita penetrante che passava attraverso l'addome se poteva ferire organi ovviamente importanti come il fegato per esempio ma anche solo attraversando l'intestino parte dell'intestino e col riversamento del contenuto dell'intestino provocavano delle infezioni incontrollabili non c'erano gli antibiotici e queste infezioni andavano avanti e procuravano moltissimo la cosa tragica è che in alcune relazioni di questi medici si racconta come molti soldati ufficiali addirittura nel caso di un generale ho letto che colpiti all'addome arrivano con le loro gambe al posto di medicazione e praticamente il medico impotente assiste a volte con tempi molto brevi a volte invece con tempi nettamente più lunghi comunque a un graduale aggravamento fino alla morte perché non si poteva non si sapeva controllare la chirurgia dell'addome era più difficile e pensate che invece le ferite anche penetranti anche piuttosto gravi adesso arrivo questo è un apparto per trasfusioni si facevano anche in effetti le trasfusioni del sangue ma quello che vedete è un trappano da cranio è un set per chirurgia cranica ora anche delle ferite penetranti nel cranio e qui a volte nelle relazioni viene fuori il tragico termine di pappa cerebrale cioè il cervello che è spappolato esce esce cola come si dice dal cranio portavano il 50% dei morti il che vuol dire che in realtà i chirurghi di allora ce lo scrivono ce lo raccontano venivano operati si mettevano placche si facevano delle si riusciva in qualche modo a gestire il problema e se non c'era una forte infezione della ferita alcuni di questi feriti sopravvivevano e nelle relazioni di allora si legge se ne va guarito ora in realtà quanto potesse in che limiti in che termini potesse essere guarita una persona che aveva avuto un trauma cerebrale con perdita di materiale è tutto da valutare ma questo diciamo anche rientra un po' nella diciamo nell'approccio medico che si aveva allora gli ospedali da campo come questo sotto una tenda attualmente si svilupparono moltissimo molti concetti di antisepsi di asepsi di anestesia ovviamente erano già perfettamente acquisiti e negli anni successivi come questo questo Andrea Marro altro professore dell'Università di Torino che racconta appena dopo la fine della guerra le sue esperienze ed è da questo libro che ho tratto alcune adesso non sto a leggervi ovviamente le citazioni ma comunque sono delle cose veramente tragiche sia per i feriti addominali che avevano un destino tremendo sia per i feriti della testa che invece avevano quest'altro destino molto strano vi ricordo che questo è un apparato radiologico la radiologia ovviamente esisteva dal 1895 con Röngen e fu ampiamente adoperata per andare a scoprire la posizione di frammenti di proiettili di pallette come dicevano da Schrapnel che erano delle bombe che ebbero una vasta e un altro aspetto che nella medicina e nella chirurgia aveva un grosso impatto fu la velocità del trasporto dei malati dei feriti ovviamente per cui non solo tutte le cose prettamente mediche ma anche tutto il sistema che accompagnò la medicina e la chirurgia militari perciò tra cui anche le ambulanze le autoambulanze ebbero un valore enorme per permettere di intervenire in tempi brevi e spesso di salvare mentre prima si veniva portati a mano ma questo ovviamente sulla linea del fronte avveniva continuamente e al massimo con carretti come questo qui ci sono delle pubblicazioni appunto su ferite al capo d'arma da fuoco oppure più ampiamente la terapia delle ferite da guerra con ampie considerazioni qui faccio un velocissimo inciso su un aspetto che uno dei rimedi che ebbero maggiore efficacia in chirurgia fu l'uso della soluzione cosiddetta di Dakin-Carrell Carrell aveva avuto nel 12 il Nobel per le anastomosi arteriose e insieme all'americano Dakin sviluppò una tecnica di lavaggio delle ferite con una soluzione di ipoclorito di sodio e acido borico detto così acqua di rose poco di più ma estremamente efficace soprattutto perché loro raccomandavano delle abbondanti lavature e questo ovviamente ebbe un valore perché portò in alcuni casi negli ospedali soprattutto francesi ma anche italiani a una riduzione notevolissima delle morti questa che vedete è la facoltà di medicina veterinaria di Torino io partengo ma ve la faccio vedere per un altro motivo perché questa è la sede di Vianizza quella antica prima che venisse bombardata nella seconda guerra mondiale ma qui dentro durante tutta la prima guerra mondiale vi fu il laboratorio per la produzione del siero antipiogeno Lanfranchi Finzi è un siero che naturalmente veniva ottenuto da cavallo ed era stato veniva messo in fiale che all'inizio durante l'inizio della guerra erano un rimedio veterinario prodotto al foscolo di veterinaria per uso dei veterinari militari c'erano anche loro naturalmente dopodiché rapidamente venne tutto dirottato verso la medicina umana perché ci si rese conto che questo siero era piuttosto efficace ovviamente non era un antibiotico ma riusciva in buona misura a scongiurare le complicazioni settiche la guerra porta anche le mutilazioni e naturalmente i chirurghi che dovettero mutilare tantissimi soldati pensarono sia alle mutilazioni sia ai rimedi gli ortopedici furono evidentemente coinvolti in tutto questo qui vedete un soldato con una mano artificiale qui vedete una persona che si cercava di riportare al lavoro addirittura con delle protesi adeguate e un aspetto qui vedete appunto una mano un avambraccio che noi conserviamo e naturalmente tutte queste protesi erano degli oggetti di artigianato fino ad allora le gambe di legno si erano sempre fatte nei secoli e alcuni artigiani facevano questo di mestiere ed erano abituati comunque a dei piccoli numeri dallo scoppio della guerra rapidamente dopo pochi mesi le richieste di arti artificiali crebbero in modo incredibile e l'industria dovette dargli dietro naturalmente cercare rimedio e beh qui Torino che ovviamente in quel momento era già una città industriale ebbe un diciamo ci fu un contributo importante perché Zumaglini un medico sviluppò un ginocchio articolato e questo voleva dire a scatto che vuol dire che facilitava l'esecuzione del passo e poi successivamente produsse anche il gomito cosa voleva dire che la parte più difficile da realizzare cioè il ginocchio in un arto artificiale veniva realizzato per fusione con una molla con un sistema che garantiva un ottimo funzionamento e perciò di riacquisire la capacità di camminare dopodiché tutta la parte che doveva collegare al moncone della coscia e il resto del fino al piede venivano ovviamente adattate alle dimensioni della persona del ferito ma l'idea di avere un ginocchio prodotto industrialmente era ovviamente un grosso vantaggio e poi anche il piede in realtà anche i piedi venivano fatti in serie con tutta una serie di precauzioni molto molto interessanti e poi ci fu anche chi come il Franceschini riprendendo però un'invenzione datata a 1899 fece questa proposta nel moncone rimanente in questo caso di un braccio di una coscia a volte anche di un avambraccio rimanevano dei muscoli che non potevano più agire con i loro tendini sulle parti distali che avrebbero perché non c'erano più qui non c'è più l'avambraccio ma il muscolo era ancora capace di contrarsi e allora la proposta era perché non usiamo queste che loro chiamavano leve plastiche motori plastici per creare dei punti di attacco e con la contrazione del muscolo che ancora rimaneva ed era attivo far muovere delle parti e avere perciò delle protesi mobili funzionali e effettivamente furono fatte qui vedete addirittura la mano con tutto un gioco di ingranaggi di cavi d'acciaio eccetera potevano venire mosse e questo è un aspetto molto interessante non vi nego e non vi nascondo che le speranze in questa direzione erano assolutamente eccessive perché in realtà l'applicazione fu molto più modesta con dei risultati molto più limitati ma evidentemente è una cosa importante penso che tutti abbiate riconosciuto l'ospedale di San Vito non è cambiato di molto fu aperto proprio all'inizio della guerra e lì i mutilati i feriti venivano ricoverati venivano si facevano delle terapie come queste fisiche comunque e poi qui nacque il primo la clinica Ferrero di Cambiano in cui i mutilati o le persone che avevano delle menomazioni funzionali cioè c'era chi paralitico paralitici per vari motivi lesioni nervose lesioni vascolari shock da guerra venivano riabituati a lavorare anche in modo passivo queste macchine facevano muovere le ginocchia i gomiti e da questo ospedale da questo laboratorio poi nacque l'idea che si sviluppò nell'Inail come lo conosciamo noi anzi col periodo di Infail in cui la F stava per fascista e che era l'istituto diciamo comunque e Torino ebbe anche un laboratorio per le protesi come vedete anche questa un po' particolare che era dentro al Rosmini in Vianizza come oggi abbiamo detto e vado verso la conclusione comunque abbiamo citato che oltre i medici e i chirurghi di cui vi ho parlato fino adesso il gruppo dei fisiologi hanno avuto un ruolo importante Angelo Mosso muore nel 10 perciò non è presente nella storia della Grande Guerra ma lascia un segno importante perché lui fisiologo affronta soprattutto il tema della fisiologia in alta quota questo perché questo lo fa a partire dal 1894 ma pensiamo che ricordiamo che nel 1863 nasceva a Torino il Club Alpino Italiano e nel 1872 veniva fondato il Corpo degli Alpini perciò gli sportivi e i soldati incominciavano a salire in montagna la montagna era stata sempre poco frequentata in quel momento incomincia ad essere frequentata nascono dei problemi per il freddo per la nozzia eccetera e Mosso decide di affrontare questo problema decide di affrontarlo con degli studi qui vedete una persona oggi diremmo cablata per registrare la respirazione mentre si muoveva in montagna ma questa immagine con questo soldato con gli scarponi chiodati tipici degli alpini di quel tempo è il segno che dal 1894 ogni estate Angelo Mosso ad Angelo Mosso veniva messa in disposizione una compagnia di alpini che facevano da portatori e da cavie per i suoi studi e i suoi studi con questi soldati e vedete qui appunto una cavia in alta quota che deve fare degli esercizi fisici portarono delle acquisizioni molto importanti sui problemi della respirazione della circolazione cardiaca della fatica muscolare dell'alimentazione e del freddo alcune di queste informazioni furono preziosissime nella guerra bianca come sappiamo tutti la guerra che si combatte negli acciai ad alta quota ed erano state acquisite da Angelo Mosso che collaborando con gli alpini travasò agli alpini ai medici degli alpini e proprio all'organizzazione militare degli alpini tutte le sue conoscenze e le precauzioni che potevano essere adottate nel 94 Mosso pubblica l'uomo sulle alpi diciamo il riassunto il libro che divulga le sue scoperte appunto sulla fisiologia in alta quota e lui per esempio è famoso per l'invenzione dell'ergografo uno strumento che misurava la fatica umana avrei molto da dirvi su questo ma rimando magari a un'altra occasione qui vediamo lo stesso ergografo utilizzato per un soldato il che vuol dire che comunque anche nell'ambiente militare per vari scopi si aveva si utilizzava questo qui vediamo come una compagnia di alpini sta raggiungendo un rifugio in alta quota ma qui adesso il cerchietto rosso vi fa vedere che ad aspettarli c'era proprio l'ergografo avrebbero subito un test per misurare la loro capacità resistenza la fatica l'energia che era residua dopo e soprattutto vivendo lavorando in un ambiente con una rarefazione dell'aria e perciò questi strumenti anche portati in alta quota vengono usati per comprendere capire delle cose che poi divennero fondamentali conoscenze fondamentali nella guerra una cosa interessante è che mosso definisce acapnia cioè mancanza di anidride carbonica in pratica quella che si chiama comunemente mal di montagna il mal di montagna da mosso fu riconosciuto come lo dice qui come una riduzione del tasso di anidride carbonica nel sangue e vi cito solo l'unica citazione che vi sono quattro righe ma mosso presenta nel 1908 l'Accademia dei Lincei di fronte al re di fronte al re fa una relazione sulla fisiologia ad alta quota e dice parlando appunto di questa malattia della capnia dice ogni piccola modificazione del contenuto dell'acido carbonico altera i moti spontanei dell'esofago e sconvolge le funzioni dei muscoli è una nuova meraviglia nell'economia degli organismi il vedere che gli scambi nei processi della vita sono regolati dai fattori più umili cioè non l'ossigeno il diciamo fonte di vita ma l'anidride carbonica più umile diventava diciamo l'agente regolatore di molti l'accapnia nella politica vuol dire che se i ricchi fossero soli al potere senza lo stimolo e il pungolo dei proletari l'anidride carbonica la società cadrebbe nel torpore e nell'impotenza tutto questo detto di fronte al re ammettete che è una posizione abbastanza curiosa e che merita di essere ricordata oltre ai gas in alto vedete volare un aereo e l'aeronautica è l'altra grande novità la guerra chimica e la guerra aerea già nel 15 alcuni medici si erano occupati di fisiologia e di igiene degli aviatori per le esperienze che c'erano avute prima naturalmente con lo scoppio della guerra la medicina diventa molto più importante e qui a Torino o a Padova dagli alti comandi o a Roma successivamente e anche a Napoli nascono degli uffici o laboratori per le ricerche psicofisiologiche dell'aviazione militare quella di Torino diretta a Derlitzka che era allievo di Mosso e che porta lo vedete con la barba lì a sinistra e che sviluppa un laboratorio molto interessante prima che nascessero questi laboratori le persone venivano arruolate come soldati come aviatori solamente se pesavano meno di 70 kg avevano buona salute tanto bastava per volare invece ci si rese conto che ben altri importanti fattori qui vedete per esempio che uno di mestiere faceva lo chauffeur dopo una breve visita viene abilitato a diventare pilota di aereo e invece in mano a Erlitzka nasce un laboratorio che studia attentamente tutti i parametri fisiologici e costruisce degli strumenti come quello che vedete che sono conservati noi abbiamo fortunatamente recuperati e questo lo vedete in una foto d'epoca e prima l'avete visto come oggi restaurato era la cabina di pilotaggio di un Bleriot 11 di questo aereo che era l'aereo scuola per tutti i piloti e su quel posto di pilotaggio oggi lo diremmo un simulatore di volo anche se il termine è abbastanza improprio o su quest'altro che aveva il posto di pilotaggio di un Caproni un K3 venivano e liberi di muoversi venivano salivano gli aspiranti piloti notate torno indietro di due foto velocemente bendati perché non dovevano vedere se non era come dire troppo facile intervenire se ci si rendeva conto dei movimenti avendo però in mano i veri strumenti di volo di un aeroplano per vedere anche la loro abilità altri test qui vedete lo stesso apparecchio fotografato ai tempi oppure sotto questa campana si creava una rarefazione artificiale dell'aria che simulava l'alta quota fino a 10.000 metri di quota e gli aspiranti dovevano entrare sotto questa campana e vedere fino a che altezza resistevano anche questa campana è conservata insieme ad altri reperti tipo le cedie girevoli per mettere per stressare diciamo il senso dell'equilibrio molte cose si potrebbero dire sui tempi di reazione e qui abbiamo quella strumentazione conservata sulla funzione muscolare e vedete di nuovo lo stesso strumento fotografato nel 17 il tutto è stato recuperato è diventato oggetto di una mostra che ha già girato l'Italia ed è stato anche realizzato un film che se volete potete vedere su youtube e in cui abbiamo ricostruito vedete con degli attori diciamo il funzionamento di queste macchine da questo laboratorio venivano fatti molti test e qui vi faccio vedere velocemente i risultati dell'esame sono quattro pagine di test e alla fine vedete che in questo caso è ammesso alla scuola di volo praticamente altre volte invece veniva definito inabile al pilotaggio vedete c'è un timbro che dice in questo caso inabile nel 19 furono riassunte tutte le acquisizioni della biologia d'aviazione che era un tema assolutamente nato nel mondo fisiologico tant'è vero che questo frate che vedete è padre Agostino Gemelli il medico oltre che religioso medico personaggio molto discusso è discutibile probabilmente ma che proprio in quel frangente durante la grande guerra viene non solo è un frate e perciò avrebbe potuto fare il cappellano ma in realtà diventa essendo lui medico diventa ufficiale medico fortemente coinvolto anche nella medicina di aviazione in cui lui però approfondisce non tanto gli aspetti fisiologici strettamente intesi come si studiavano a Torino ma gli aspetti psicologici della guerra e lui sviluppa tutta una serie di cose di test attitudinali molto interessanti perché già in quel momento l'aviazione non era un aereo ma erano diventavano i caccia diventavano gli aerei da osservazione diventavano i bombardieri e che avevano bisogno di diverse attitudini e lui appunto diventa importante perché appunto sviluppa questo tipo di studi e qui lo vediamo ancora è proprio lui a destra in un vero laboratorio fisiologico però appunto lui è molto più vicino a quell'altro ramo che nasce dalla fisiologia che è la psicologia al giorno d'oggi secondo noi penso che comunemente la psicologia sia interpretata come una disciplina umanistica fondamentalmente e invece nasce assolutamente dalla fisiologia addirittura dalla fisiologia sperimentale tant'è vero che padre gemelli ottiene una libera docenza a Quattolino in psicologia sperimentale che dimostra questo stretto collegamento con la fisiologia perché si studiava all'inizio tutta la estesiologia cioè la sensibilità dell'uomo le sensazioni in modo con cui veniva recepito si studiava il gusto la vista l'olfatto il tatto tutti i sensi e da questi si passava poi all'elaborazione diciamo interna di queste sensazioni e gradualmente si passa da una fisiologia fisica a volte con aspetti chimici come nel caso quando si studiava il senso del gusto dell'olfatto verso una psicologia sempre più tra virgolette psicologica però sicuramente la psicologia ha le sue origini a Torino e qui c'è un altro personaggio che vi ricordo brevemente ed è Friedrich Kisoff Kisoff è un tedesco studia medico studia fisiologia studia in Germania e poi viene a conoscere conosce mosso credo tramite il congresso di fisiologia internazionale del 1901 qui a Torino e rimane entusiasta del laboratorio degli strumenti che qua c'erano ma soprattutto della capacità che l'istituto di fisiologia di Torino aveva di sviluppare nuovi strumenti di adattarli a nuove ricerche avevano dei tecnici abilissimi nel costruire strumenti molto sensibili e l'inventiva di Angelo Mosso e poi anche di Arlitzka produceva sempre nuovi strumenti per nuove scoperte Kisoff che pure veniva dalle scuole tedesche che erano le prime decide di venire a Torino per approfondire i suoi studi e diventa italiano nel tempo acquisisce la nazionalità italiana e va in cattedra alla prima cattedra di psicologia qui all'Università di Torino e potete immaginare che questo succede nel 1900 mi pare nove sei alla cattedra Friedrich Kisoff potete immaginare che quando scoppia la guerra tedesco si trova in una situazione imbarazzante perché i nostri studenti manifestano gli studenti erano tutti a favore della guerra interventisti in media e sapete che gli operai la classe operai era contro ci furono degli scontri violenti reali scontri fisici ma gli studenti erano sicuramente antigermanisti interventisti l'idea è di avere un docente che era tedesco e che in quel momento non sentia affatto il bisogno di tornare in Germania ma chiese era italiano era diventato italiano e c'è una precisa presa di posizione della facoltà di lettere in cui lui insegnava psicologia che dice no Kisov non deve essere allontanato perché da molti anni ha acquisito la nazionale italiana e si è sempre comportato da buon italiano creando perciò una situazione un po' particolare padre Gemelli è allievo di Kisov viene a Torino per studiare psicologia con Kisov anche lui acquisisce una libera docenza e poi porterà avanti il lavoro la psicologia fu applicata da Gemelli non solo nell'ambito strettamente aeronautico ma più ampiamente perché lui aveva un ruolo di medico militare e parte di questo lavoro che il medico militare doveva fare era anche per esempio dare delle valutazioni su tutte le sindrome nervose di guerra a volte senza nessuna ferita c'erano delle persone completamente sconvolte sappiamo che ci furono delle conseguenze che durarono nei decenni date le tragiche situazioni e lui però studiò sia da un punto di vista medico strettamente che da un punto di vista psicologico questa situazione nuova di questo nuovo tipo di guerra e scrive un libro che è appunto il nostro soldato saggio di psicologia militare pubblicato nel 17 perciò alla luce dei primi due anni di guerra in cui parla in modo molto freddo oggettivo direi della situazione della guerra di trincea e spiega come il piccolo mondo che si crea attorno al soldato il piccolo orizzonte modifica condiziona la sua vita fisica cito solo il piede da trincea tipica patologia dei piedi che rimanevano nel fango nell'acqua nell'umido ed era proprio un problema veramente grave ma anche dal punto di vista psicologico e spiega questa perdita di conoscenza di consapevolezza addirittura che gradualmente si ha nei soldati però dicendo che non è tutto negativo perché questo rendeva i soldati degli automi delle persone che reagivano automaticamente e nel modo più conservativo e perciò forse anche più efficace di fronte ai pericoli di fronte alle minacce della guerra scrive e oltre questo appunto fa un lavoro naturalmente di medico di medico militare che voleva dire valutare queste situazioni anche psicologiche che si creavano e devo dire che si sa che appunto era un medico nel diario di un soldato si dice che era una carogna e questo diciamo dà un po' l'idea di un e notate che era un frate perciò un frate francescano e certamente non era un atteggiamento molto francescano ma ne fece poi anche altre e qui vedete appunto una pubblicazione di Gemelli appunto per il suo impegno di psicofisiologia degli aviatori finisco con queste fotografie che sono conservate sempre nell'archivio di Torino perché questi sono alcuni volti scelti a caso fra i 3.000 giovani che tra il 17 e il 18 passarono gli esami del laboratorio per la selezione dei piloti e tutti furono fotografati e di praticamente tutti abbiamo trovato recuperato le grandi lastre in vetro con i loro ritratti questi ritratti vedete che in gran parte sono dei soldati ma abbiamo anche dei civili come vedete che andarono direttamente dalla vita civile ad affrontare questo test perché volevano diventare piloti militari e queste foto che sono un esempio secondo me estremamente interessante di antropologia direi antropologia culturale notate gli abiti gli atteggiamenti sono 3.000 è un fondo estremamente importante ancora tutto da studiare certamente visti con i nostri occhi hanno ancora un altro valore perché se questi giovani superavano l'esame andavano a volare e mediamente l'80% moriva nelle prime due settimane se non superavano l'esame tornavano in trincea e sinceramente non so quale dei due destini fosse da preferire grazie grazie soprattutto al professor Galloni per questa esposizione che ci ha portato per mano quasi a toccare gli oggetti di solito la grande storia non dà troppo spazio a quelli che sono gli aspetti tecnici che invece condizionano la vita e dovremmo dire anche nel caso della guerra la morte quotidiana questo invece è il modo concreto di far vedere come l'intelligenza umana la volontà anche di salvare vita eccetera vada di pari passo con come dire l'incremento la crescita in sostanza dei rischi dei pericoli di cui la guerra è oggettivamente portatrice poi si potrebbe persino arrivare al paradosso che per fortuna ci sono le guerre perché consentono dei progressi dal punto di vista delle scienze e soprattutto anche della medicina è un discorso che è stato fatto anche recentemente con le guerre spaziali e con la ricaduta diciamo così negli strumenti sempre più precisi di intervento sul corpo umano ma devo dire che la cosa importante è questa perché la storia si sostanzia di cose e di oggetti certo le idee soprattutto per chi come me pratica in sostanza una disciplina umanistica sembrano avere un fascino maggiore ma in realtà poi ci si misura con la possibilità di articolare una gamba di legno di piegare un piede nel passo nel misurare la fatica di un'ascesa in montagna e quindi anche di calcolare la resistenza delle nostre truppe alpine sui ghiacciai delle Alpi orientali tutto questo sono poi aspetti che hanno finito per avere uno spazio e dare un contributo in sostanza a quelli che sono stati gli esiti della guerra non voglio rubare ulteriore tempo ci sono domande per il professor Galloni prego il professore Galloni ci ha fatto un'ottima panoramica bellissima sui medici italiani specialmente torinesi che hanno fatto della ricerca oggi i medici universitari amano dire che loro fanno ricerca didattica e assistenza io vorrei ricordare che non solo nel 15 18 è stata fatta e anche prima è stata fatta della ricerca in campo militare ma è stata fatta anche della didattica e dell'assistenza perché questi medici assistevano in prima linea o se non in prima linea in seconda linea in una scuola dove loro hanno insegnato dove hanno fatto la scuola di Nogaro che ha insegnato a questi 14.000 medici molti non erano medici erano solo studenti di medicina a fare la medicina di 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 guerra perché loro con la guerra non erano mai venuti a contatto quindi voglio ricordare che erano delle persone complete questi nostri antenati colleghi universitari non so se sei d'accordo o no assolutamente troppe cose avevi potuto ancora dire si chiamava università castrense lo sappiamo perché erano al campo e anche docenti torinesi andarono a insegnare il periodo di insegnamento era ridottissimo appunto entravano studenti del secondo anno del terzo anno e ne uscivano abilitati alla medicina militare qualcosa di simile ma non voglio dilungarmi era successo con Napoleone che anche lui aveva dato dei diplomi di medico velocemente a persone appunto comunque è chiaro che è una cosa estremamente importante ma d'altra parte ebbero un ruolo notevolissimo non si sarebbe arrivato a quel numero di medici se avessimo dovuto pescare solamente nella classe medica reale ecco cioè quella già completamente formata e abilitata l'università castrense è stato un episodio estremamente significativo in realtà direi anche l'opportunità è questa di approfittare delle competenze del nostro relatore perché l'altro aspetto della grande guerra era la veterinaria i nostri muli sono andati sui montagni insieme agli alpini l'artiglieria di montagna anzi i grandi pezzi che hanno poi permesso anche di battere in breccia le divisioni austriache sono saliti sulla schiena dei muli eccetera dal punto di vista della storia della veterinaria ci sono momenti che si possono paragonare a quelli della storia umana cioè vale a dire l'incremento di malattie forme infettive a parte le ferite perché anche gli animali venivano colpiti eccetera e se c'era una lo dico col termine antico i latini l'hanno sempre chiamata mulomedicina e ci abbiamo i trattati ed era una veterinaria per lo più di guerra quella che c'è rimasta nei testi latini parallela alla medicina ma talvolta molto più dettagliata perché gli animali non protestavano a essere esaminati da vicino o magari anche ad essere come dire oggetto di interventi in corpore vivi come si sarebbe detto allora ecco ma la storia della veterinaria ha avuto un'accelerazione anche con la guerra sicuramente esisteva anche un corpo di medici veterinari militari che furono coinvolti assolutamente con molte somiglianze avete vi ho detto che appunto il siero antipiogeno nasce nel mondo veterinario e poi viene applicato per l'uomo ma anche altre analogie sono per esempio che alla croce rossa e in quegli anni anche all'ordine di Malta che gestiva alcuni ospedali parallelamente nasce la croce azzurra la croce azzurra fa ospedali per gli animali e coinvolge i veterinari in questi interventi ci sono diciamo che la medicina veterinaria in alcuni casi ha viaggiato sempre un po' a ruota della medicina umana applicando agli animali le conoscenze che venivano man mano però così come non vi ho detto e qui è un limite appunto dovuto al tempo che i fisiologi studiarono anche durante il periodo della guerra l'alimentazione dei soldati e nel caso di Erlitzka anche l'alimentazione dei civili perché appunto c'era un concetto c'era un problema di economia si era più poveri c'era una ridotta produzione i contadini erano al fronte ci fu tutto l'episodio importantissimo fra il 17 e il 18 della cosiddetta aratura di Stato quando nel 16 ci si rese conto che quando era ora di arare i campi non c'erano più i contadini nel 16 ci fu una discreta carestia nel 17 lo Stato italiano compriero due navi piene di trattori in America le portò in Italia le diede al genio e ai soldati che non erano al fronte i quali andarono nella pianura padana in tutte le zone più coltivate d'Italia ad arare i campi con i trattori perciò una rivoluzione importantissima oltre a quella che non vi ho detto ma che è naturalmente il coinvolgimento delle donne nella guerra in tutte le attività che perciò si sono così come sono entrate nelle fabbriche così come hanno guidato i tram con molta paura di molti uomini ma comunque l'hanno fatto egregiamente e hanno anche poi dovuto fare i lavori di campagna però in questo caso aiutate i veterinari intervenono soprattutto per la produzione di alimenti la carne nonostante tutto nella dieta di un soldato le proteine sono importanti e perciò ci fu così come nel campo umano Erlitzka studia la dieta e cerca di trovare degli equilibri in modo per compensare certe carenze alimentari e anche avendo sempre chiaro l'idea dell'economia di una nazione in guerra allo stesso modo i veterinari si danno da fare per aumentare la produzione di proteine animali in tutte le loro forme per esempio anche facendo nascere dei regolamenti che vietavano di abbattere gli animali più giovani di un tot bisognava che avessero prodotto tutte le proteine non oltre ma sicuramente che arrivassero perciò il vitello non c'era più per capirsi durante la prima guerra mondiale altre domande prego il microfono è qui è lì è acceso? sì volevo fare i complimenti all'amico professor Galloni bellissimo volevo solo aggiungere questo proprio riferimento alla carestia del 17 e alla conseguente aratura di stato che fu conseguente anche a delle rivolte per il pane una nell'agosto del 17 qui a Torino dove e mi aggancio anche a questo le donne oltre a guidare i tram a fare tante altre cose comandarono la rivolta furono le prime a innescare una cosa che era preinsurrezionale proprio qui dietro in piazzale Valdofusi se non ne vado errando ma sicuramente con qualche decina di morti per la repressione erano dei moti per il pane ma furono le donne e quando la donna si arrabbia lo sappiamo è dura grazie complimenti ancora grazie la Spagnola è stata una monastia di guerra o no? probabilmente facilita in realtà scoppia nel 18-19 perciò la guerra praticamente è finita però è chiaro che tutti i problemi anche di spostamenti di persone facilitano assolutamente teniamo conto che la Spagnola fa tanti morti quanto la guerra praticamente lo stesso numero e perciò così come le famiglie italiane erano state colpite non c'era quasi famiglia che non avesse mutilati caduti eccetera non ci fu quasi nessuna famiglia che non ebbe morti e tra l'altro i morti erano molto giovani la fascia di mortalità era fra i 20 e i 30 anni per cui particolarmente grave soprattutto in un momento in cui una nazione doveva ripartire se non ci sono altri interventi mi rimane il compito di ringraziare voi presenti qui ma ringraziare soprattutto insieme ai nostri complimenti ringraziare il relatore che ripeto ci ha fatto vedere come la grande storia è fatta anche di tante storie apparentemente minori ma che danno corpo e sostanza a quello che noi dobbiamo conoscere per forza grazie ancora grazie a voi grazie